Hai finito la scuola media e non hai superato i 17 anni? Al centro di formazione professionale di Civitavecchia sono aperte le iscrizioni per diventare meccanico in collaborazione con AMA SPA. Info presso il centro o sul sito www.formazione.cittametropolitana roma.it Todis, buongiorno convenienza, frutta e verdura fresche garantite da consegne quotidiane, carni fresche controllate di qualità, pane fresco ogni giorno, prodotti biologici, salutistici e senza glutine. Al Todis trovi qualità, bontà, sicurezza e convenienza. Sui nostri prodotti facciamo centinaia di controlli all'anno. Abbassare le liste d'attese e consentire un maggior numero di prestazioni sanitarie è l'obiettivo della giunta regionale che ha stanziato un finanziamento di 17 milioni di euro. Possibile svolta in arrivo sul servizio delle mense scolastiche, il comune potrebbe far leva su un finanziamento regionale per alleggerire la situazione delle famiglie. Si è tenuta nel pomeriggio di ieri la sesta edizione della manifestazione Civitavecchiese DOC, istituito dall'associazione Civitavecchia CE. Il premio per il 2024 è andato ad Adalberto Bencini, ex direttore generale della Cariciv. Il rinvenimento di sostanze stupefacenti per circa un chilogrammo tra ascisce e marihuana i 16 grammi di cocaina. Sono alcune delle operazioni più importanti svolte nel periodo estivo da Roan che traccia il bilancio. Si è svolta la serie della tre PC la presentazione del progetto dal nome Volley Pieturia. Si tratta di un accordo e dall'unione di intenti tra Aspe e Volley Academy che hanno presentato la nuova stagione. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Abbassare le liste d'attesa e consentire un maggior numero di prestazioni sanitarie all'utenza. Questo l'obiettivo dello stanziamento di 17 milioni di euro predisposto dall'Aggiunta della Regione Lazio per fornire esami e visite a chi ne avrebbe diritto ma a chi invece si trova spesso costretto a ricorrere ad altre soluzioni. Quasi 22 mila in più le prestazioni che sarà possibile erogare dalla ASL Roma 4. Ma sentiamo l'approfondimento della nostra redazione. L'Aggiunta regionale del Lazio ha stanziato 17 milioni di euro per andare incontro ai bisogni urgenti di pazienti e cittadini. Un finanziamento che la Regione ha deliberato per fornire 400 mila prestazioni fuori soglia. Si tratta cioè di quegli esami e visite che ad oggi superano i tempi di garanzia previsti per le liste di attesa dalla normativa vigente. Come spiega il consigliere regionale Emanuele Amari di Fratelli d'Italia, solo nella ASL Roma 4 le prestazioni fuori soglia per cui è ora prevista una copertura sono quasi 22 mila per una spesa di circa 800 mila euro. Si tratta quindi di migliaia di cittadini della nostra azienda sanitaria che potranno accedere al servizio a cui hanno diritto secondo la legge, sottolinea Emanuele Amari, secondo cui si tratta di un atto concreto che consentirà anche agli operatori di dare assistenza adeguata e risposta in tempi rapidi agli utenti del servizio sanitario pubblico. Si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 59enne fermato dai carabinieri è trovato in possesso di una consistente quantità di cocaina. Nel corso di un controllo, visti militari, l'uomo aveva effettuato alcune brusche manovre con l'autovettura e poi aveva gettato un involucro dal finestrino. I carabinieri insospettiti lo hanno sottoposto a controllo e rinvenuto mezzo chilo di cocaina nelle adiacenze del veicolo. Una successiva perquisizione ha portato a rinvenimento al sequestro di ulteriori 100 grammi di cocaina. L'uomo è stato quindi tratto in arresto e il Tribunale di Civitavecchia ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. C'è una svolta in arrivo in merito alla vicenda delle mense scolastiche. Il Comune potrebbe infatti far leva su un finanziamento regionale per alleggerire in qualche misura la situazione alle famiglie colpite dagli aumenti del servizio a rifezione. Ma sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Arriva dalla Regione Lazio un salvagente per le famiglie Civitavecchiesi colpite dagli aumenti sul servizio di rifezione scolastica. Ad annunciarle il consigliere regionale Emanuela Mari che dà notizia di un finanziamento che la Regione Lazio ha concesso al Comune di Civitavecchia per la mensa biologica. La proposta dell'esponente di Fratelli d'Italia è quindi quella di impiegare questa somma ridistribuendola sulle famiglie. In particolare, secondo Emanuela Mari, il contributo potrebbe essere destinato a favore degli utenti attuali del servizio di mensa scolastica che hanno più figli iscritti al servizio, magari privilegiando quelli che attualmente ricadono nella quarta e quinta fascia ISEE. Secondo le tabelle, infatti, chi è stato inserito in quarta fascia paga per i secondi figli e successivi, poco meno dell'intero costo del buono pasto, mentre invece i nuclei finiti in quinta fascia debbono corrispondere anche per i secondo geniti il 100% del servizio. La decisione finale aspetta la Giunta Comunale, sottolinea Emanuela Mari, che si aspetta però che a breve il Palazzo del Pincio sappia cogliere l'opportunità che arriva dalla Regione Lazio per ridurre da subito i costi a carico degli utenti del servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2024-2025. Su iniziative dell'amministrazione comunale si è svolto un importante incontro, come gestire l'uscita graduale dal combustibile fossile. Sulla questione interviene il consigliere comunale Giancarlo De Gennaro, che è anche capogruppo di Unione Civica. Obiettivo chiaro dell'incontro è ben sintetizzato dal sindaco Piendibene, spiega De Gennaro, e ad operarsi a tutti per riprendere il dialogo con le istituzioni interessate, portando a Civitavecchia in un tavolo di confronto nazionale con il Ministero dell'Ambiente, Enel, Invita Italia e tutti gli attori coinvolti. Un solo è il paletto posto dell'amministrazione, nessuna preclusione per nessun progetto, a patto che sia concordato con l'amministrazione e a patto che non sia inquinante. Mi è rimasto però un reto gusto amaro, la sensazione che sopra di noi ci fosse il tetto di cristallo, cioè la difficoltà di quella voce di arrivare a destinazione. Gli interlocutori non hanno la forza sufficiente a rompere quel tetto, cosa che possono fare solo la Regione Lazio e i parlamentari del territorio. Con la fine della stagione estiva, il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia traccia un bilancio delle attività appena concluse, con particolare riguardo allo sforzo sostenuto dalle isole pontine, meta turistica privilegiata del litorale laziale. Gli oltre 600 controlli di polizia in mare hanno permesso di individuare molteplici attività di noleggio abusivo di imbarcazioni da diporto. Tratti in arresto un pregiudicato che, nonostante fosse gravato da provvedimento restrittivo di arresti domiciliari, era a bordo di una moto d'acqua. Prestare immediato soccorso a tre imbarcazioni da diporto in difficoltà, portando in salvo 21 persone. Le attività di servizio svolte a terra, in collaborazione con i reparti territoriali del corpo, hanno permesso di rinvenire sostanze stupefacenti per circa un chilogrammo tra hashish e marijuana e 16 grammi di cocaina e segnalare all'autorità giudiziaria tre soggetti, di cui uno minorenne. Sottoporre a sequestro tre immobili abusivi realizzati sul demanio marittimo in aree sottoposte a tutela paesaggistica e ambientale ed effettuare mirati controlli sulla regolarità dello svolgimento delle attività commerciali che hanno portato alla luce condotti illecite da parte di soggetti con licenza commerciale itinerante utilizzate invece in forma stabile. La Federlazio esprime apprezzamento per la riconvocazione prevista per il prossimo 22 ottobre dal tavolo nazionale sulla centrale termoelettrica e nel ditore Valdaliga Nord a Civitavecchia. Secondo i responsabili territoriali di Federlazio, Paolo Sacchetti, la situazione è difficile, ma bisogna avere la forza di affrontarla insieme. Soggetti pubblici e privati. Da Sacchetti arriva un ringraziamento al vicepresidente e all'assessore allo sviluppo economico della regione Lazio, Roberto Angelilli, per la sua determinazione per l'interlocuzione con il sottosegretario di Stato al Mimit, Fausta Bergamotto. Il rappresentante di Federlazio guarda positivamente anche alla ricognizione che il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha annunciato per verificare l'esistenza di aree disponibili per investimenti produttivi. E si è tenuta ieri pomeriggio presso la Sala Gurrado della Fondazione Cari, la sesta edizione della manifestazione Civitavecchiese DOC, istituito dall'associazione Civitavecchia c'è, in particolare dal presidente Roberto Melchiorri e dal segretario Daniele Lisi. Il premio tornava dopo difficili anni del Covid e questa volta ha visto protagonista il dottor Adalberto Bencini, che è stato direttore generale della Cassa di Risparmio di Civitavecchia dal 1975 al 1991. Sentiamo le interviste. Siamo alla premiazione del Civitavecchiese DOC, sesta edizione, quindi torna il premio molto importante dato da Civitavecchia c'è dalla Fondazione CariCiv e abbiamo qui il nostro premiato. Adalberto Bencini, insomma, che cosa vuol dire per lei questo premio? Io sono rimasto scioccato da questo premio, perché per anni ero dimenticato pure dai miei collaboratori, di alcuni, di a nonna, tutti affettuosi. Quindi fa molto piacere? Facevo la cassa di risparmio. Per i primi due anni, tre anni che sono stato in pensione, ricevevo l'invito a partecipare. Dopo due o tre anni invitavano i miei clienti, a me non mi invitavano più. Sono riceso e io ho provato questa gioia questa volta, perché sono due persone che stimo moltissimo che hanno concordato i primi anni e questo mi ha dato una grossa soddisfazione. Insomma, Presidente, vediamo anche lei emozionata per questo premio, però meritatissimo. È difficile che io non sia emozionata, perché appena fui eletta, sei anni fa, ricevetti subito la visita del dottor Bencini, che mi venne a dare alcuni consigli, perché lui conosceva molto bene la situazione. Poi mi donò un portachiavi con un timone, un timone che significava aiutarmi a guidare la fondazione. E devo dire che il timone ha funzionato bene. Allora, chiudo con Roberto Melchiorri. Intanto, quanto fa piacere poter tornare con questo premio così importante e premiare anche? Il piacere è tanto, ma il motivo per cui è tanto, lo ha già detto il nostro direttore generale, perché questo premio nasce e viene portato avanti per dare un'equa soddisfazione a tanti nostri concittadini che fanno cose, fanno, 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 poi tutti insieme vengono messi nel dimenticatoio e noi, non regalando niente a nessuno, li peschiamo e avevamo istituito questo premio. Oggi questo premio non fu mai più ben dato come quello che abbiamo dato al nostro direttore. Il personaggio che viene premiato, insomma, è in dubbio, anche perché è veramente un Civitavecchiese doc. Ha tutti i requisiti e il vanto di essere lui Civitavecchiese e noi di, come dire, di immedesimarsi nella persona che è quello che ha fatto sul territorio, quello che ha fatto per Civitavecchia. Possiamo dire che abbiamo, come dire, rimesso in moto un incontro, una kermessa aperta a tutti i cittadini. Ormai è una tradizione. Ormai è sì, è una tradizione come il biscottino Civitavecchiese, insomma, è un punto di riferimento per tutti per ricordare e per dare un pensiero, un contributo, un premio a chi ha fatto in maniera importante e fattiva Civitavecchia. Una discarica abusiva, anche con rifiuti pericolosi, è comparsa in zona Acquafelix. Un nostro telespettatore ha documentato l'ingombrante e indecorosa presenza di materiali di scarico nei pressi del parcheggio del parco acquatico. Purtroppo, tra avanzi di cantieri, sedie rotte, pezzi di elettrodomestici e secchi di plastica, ci sono anche pezzi di tettoia in Eternit, sostanza altamente pericolosa per l'ambiente e per l'uomo. Da segnalare anche un mastello dell'umido abbandonato nella campagna. A partire dal 16 ottobre sarà attivo il nuovo canale di accesso all'ufficio Tributi del Comune, disponibile direttamente sul sito web istituzionale. Questa iniziativa mira a migliorare l'interazione tra l'amministrazione comunale e i cittadini, offrendo un servizio più semplice e accessibile per tutti. Abbiamo voluto rinnovare il rapporto con l'utenza, offrendo strumenti digitali per agevolare la comunicazione con l'ufficio Tributi, dichiara l'assessore al bilancio Florinda Tuoro. Questo servizio rappresenta un passo verso una maggiore semplificazione e accessibilità. Attraverso il portale, raggiungibile nella sezione siti tematici, sportello del contribuente, i cittadini potranno richiedere appuntamenti, informazioni e presentare istanze di rateizzazione, rettifica o annullamento degli atti. Sarà inoltre possibile gestire pratiche relative alla tassa rifiuti e consultare regolarmente tariffe aliquote e le FAC. Sarà più agevole lo svolgimento della pratica per il rilascio del contrassegno disabili da parte del comune. Lo annuncia il tavolo tecnico per la cultura dell'agibilità che, facendo proprie le richieste di chi deve fare istanza per il rilascio del contrassegno disabili, a seguito di incontri avuti con il comandante del corpo di polizia locale Ivano Berti, ha avuto comunicazione del predetto dirigente che da oggi la procedura potrà avvenire anche per via telematica. È stato inserito sul nuovo sito del comune, spiegano dal tavolo, il modulo relativo alla richiesta per il rilascio del contrassegno disabili e le modalità per l'inoltro con la dovuta documentazione da allegare. Per tutte le indicazioni potete leggere l'articolo su www.trcgiornale.it. Tre racconti di tre scrittori, civita vecchiesi e soci dell'associazione Bookface, saranno pubblicati martedì 15 ottobre nell'antologia 365 racconti gialli, thriller e noir, edita da Delos Digital e curata da Marika Campeti e Claudia Cocuzza. La prima di Ernesto Berretti, freddo come il neon e l'acciaio di Marco Salomone e interno familiare di Delio Esposito. Sono stati selezionati 365 racconti firmati anche da noti scrittori del panorama nazionale, ospitati anche nelle presentazioni letterarie organizzate dall'associazione stessa, come François Morlupi, Enrico Luceri, Paolo Di Orazio e Diego Di Dio. E termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma restate con noi perché a breve torneremo per le notizie sportive. Conad presenta il buono del paese. Per cenare da Marta, fanno la fila. Perché a casa sua trovano il gusto delle specialità regionali, la sua pasta al pesto e come la faceva la nonna, quella di Genova. E alle serate gourmet, solo i sapori del territorio. Per gli ospiti sceglie il meglio della tradizione italiana, il buono del paese Conad. Scopri le offerte in negozio e i vantaggi su spesa online.conad.it Buonasera e ben ritrovati. Apriamo con il calcio. Una trasferta da vincere per mantenere il primo posto in classifica nel campionato di eccellenza. Il Civitavecchia torna in campo domani quando alle 11 farà visita la Romulea nella prima di due gare esterne consecutive. Sulla carta sembra una gara poco insidiosa, ma in realtà sarà da prendere con le molle, soprattutto per il fattore esterno. Unica nota non positiva di questo inizio di stagione di Neroazzurri, che sono primi in classifica con 11 punti e ancora imbattuti, affronteranno la formazione terzultima con 3 punti e un solo successo all'attivo. E proseguiamo con la palla a volo. Si è svolta la sede della 3PC, la presentazione del progetto dal nome Volley più Etruria, che vede al centro dell'Unione di Intenti, ASP e Volley Academy. Le due società hanno presentato propositi e ambizioni per la nuova stagione, che le vedrà insieme. L'intervista. Marina Vergolesi, Giorgio Pientipen è presentata all'Unione di Intenti tra ASP e Volley Academy con il progetto Etruria più Volley. Quindi su cosa sarà concentrato questo progetto? Volley più Etruria. Siamo concentrati sulla condivisione di progetti sportivi semplici per tutti, che aggreghino al massimo ad ogni livello e per ogni persona. Lavorando sulla base poi i risultati e quindi le eccellenze arriveranno. Per il momento ci siamo concentrati su quella che è una grande disciplina che ha bisogno di avere dei contenuti un pochino più condivisi. Tutto qui. Presidente Piantipen, voi della Wallet Academy siete tutti elementi praticamente cresciuti all'ASP e quindi praticamente ritorno per voi. Graditissimo ritorno. Diciamo questi anni di lontananza hanno fatto sì che in noi insomma scaturissero delle riflessioni anche su quelli, anche in base alle esperienze avute, ai pregressi. E quindi ci siamo reso conto che per non disperdere tutto quel lavoro fatto faticosamente, fatto di lavoro in palestra, fatto di telefonate, fatto di ricerca di sponsor, di spazi continui, di trasferte e quant'altro, non andasse poi disperso per motivi che fondamentalmente abbiamo valutato banali. Insomma siamo cresciuti e siamo convinti che insomma si possa lavorare. Anche perché sono giunti risultati importanti negli ultimi tempi per quanto riguarda queste collaborazioni come visto anche l'anno scorso. Il Consorzio Etruria maschile ha dimostrato che con buona volontà e con una linearità sportiva anche abbastanza semplice si potesse arrivare a dei risultati importanti. Certo a livello femminile è un pochino più complicato perché la Regione Lazio conta su tante società sportive molto competitive. Però noi vogliamo fare una pallavolo per tutti in un ambiente sereno dove non ci siano stimoli esagerati ma che i risultati possano arrivare con lentezza come poi è successo in tanti anni di pallavolo. La stessa Volley Academy ha raggiunto le finali nazionali Under 13 e Minivolley proprio perché nel corso degli anni ha lavorato per. Quindi noi vogliamo fare questo, vogliamo lavorare per i ragazzi. Presidente vi diamo una cosa anche perché adesso tante ragazze sono interessate, visti i successi che hanno visto in televisione della medaglia d'oro all'Olimpia e sicuramente arriveranno in palestra. Problemi di numeri non ne abbiamo mai avuti grazie al cielo, nel senso che i nostri corsi sono sempre affollati. Semmai avevamo il problema contrario, cioè di dare una risposta a questa richiesta che fosse di qualità, che fosse di qualità a livello di istruttori, che fosse di qualità a livello di strutture e di gestione. Tutto ciò credo che possa essere assolutamente colmato da questa collaborazione. E proseguiamo con il rugby. Terminati i convenevoli degli annunci di staff tecniche e nuovi giocatori, così come le amichevoli prestagionali. Comincia con una trasferta il campionato di Serie A per il CRC. I biancorossi inizieranno il loro percorso dallo stadio Fattori, ovviamente non quello di Civitavecchia, ma quello dove gioca l'Aquila domani alle 15.30. E proseguiamo con il basket. Operazione Bis per la Stemar 90 cestistica domani alle 18.00. I rosso-neri saranno sul parquet di Ostia per affrontare Alfa Omega in uno scontro che si è ripetuto tante volte negli ultimi anni in Serie C. Di fronte alla squadra di Francesco Casadio, un team che punta sulle forze locali e dalla linea verde con Campogiani e compagni che rivestono il ruolo della favorita. Per confermare le buone cose viste contro Città Futura e pensare ad una stagione che li possa collocare al di sopra della lotta salvezza. E infine concludiamo con l'Hockey. La stagione delle sniperine CRT inizierà subito con un trofeo in palio. La FISRA ha annunciato che la squadra allenata dal presidente Riccardo Valentini si giocherà alla Supercoppa Italiana. Novelli e compagni hanno fatto loro la Coppa Italia e si contenderanno il trofeo con il Milano Quanta, campione tricolore in carica. Le Civitavecchese hanno ancora il dente avvelenato nella clamorosa doppia sconfitta casalinga nella semifinale playoff dello scorso anno che pregiudicò la corsa al titolo. La Supercoppa si disputerà il 2 novembre alle 18.30 a Forlì nel corso di un weekend dove sono previsti vari eventi nella città romagnola. E con questo è tutto. Termina qui il nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto. Auguro a tutti un buon fine settimana.